Ciao, siamo in Sonora, siamo qua per MTV Day, uno spettacolo che fino a qualche anno fa lo vedevamo solo in tv e adesso esserci per noi è sicuramente una grande emozione. Ed è una grande emozione essere anche una città bella come Genova, infatti ci eravamo stati solo di passaggio ma penso che grazie a MTV Day possiamo anche un po', ci sarà il tempo diciamo un po' di visitarla. Sì, poi quello che faremo sul palco, vi presenteremo 4-5 pezzi tra cui i due nostri singoli che già conoscerete, il nostro nuovo singolo e altri pezzi insomma riarrangiati ovviamente nella versione live perciò daremo qualcosa in più ai nostri fan che finora non hanno avuto modo di vederci nell'atmosfera live e da vivo. Dopo Genova abbiamo cantato il disco in spagnolo, dunque ci sarà una prossima uscita nell'America Latina appunto del disco cantato in spagnolo e poi il disco uscirà a breve anche in Giappone, dunque diciamo cerchiamo anche di uscire da l'Italia e di esportare la nostra musica appunto anche all'estero. Tutto questo diciamo sempre accompagnato da una tournée italiana per ora nei club e nei teatri ma anche a estera perché c'è in programma anche di andare a suonare all'estero a partire dall'Europa, in Sud America e poi anche in Giappone. Un saluto a tutti i lettori di Mente Locale e Sonora. Ciao!